Quindi sono circa una settimana che abbiamo tolto le stecche, no? Sì, mi hai detto di riportarlo per il controllo. Beh Tori, penso che dobbiamo ritenersi soddisfatti. Ha delle zampette perfettamente dritte, quindi se andiamo a vedere quello che c'era prima e quello che abbiamo oggi, possiamo veramente restare soddisfatti del risultato. Quindi vedo che è cresciuto. Sì, ora si alza anche da solo, cammina. Quindi lo vede campettato eccetera, ok ok. Man mano che si va avanti migliora sempre di più. Ancora dobbiamo fare quella integrazione che abbiamo fatto, la terapia, dobbiamo recuperare un pochino questa flessione della mano, cioè della zampetta, ok? Però piano piano mi auguro che riusciamo, c'è un'eccessiva flessibilità a livello del carpo. Dobbiamo portarla con questa posizione. Adesso poi facciamo un'altra facciatura, fa un altro rinforzo e vediamo quello che riusciamo ad ottenere. Sì, e con Laura stiamo dando gli integratori che ci avete detto. Gli integratori e l'alimentazione, come abbiamo deciso, e bisogna essere quantomeno soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto. Grazie.